Niente di banale, niente di scontato. Nella grigia stagione del calcio Catania non può che essere Matteo Pisseri il personaggio dell'ultima settimana in casa rossazzurra. 42 presenze su 42, tutti i minuti giocati ed un livello elevatissimo. Pisseri ha messo le mani anche sull'ultima gara dei rossazzurri nell'eliminatorio playoff contro la Juve Stabia che non ha sorriso al Catania. Pugni su pugni, tuffi su tuffi, Pisseri tiene in piedi il Catania anche uscendo stile libero nel finale di una gara resa impossibile dalle circostanze. Ultimo uomo della settimana ma anche uomo dell'anno con ogni probabilità. Già perché insieme a pochissimi altri il portiere Emiliano ha sempre garantito un rendimento elevatissimo non lasciandosi sfuggire la ghiotta occasione di mettersi in mostra in una piazza come quella del Catania. Il timore dei tifosi è quello di non rivederlo nel prossimo campionato perché un portiere così potrebbe anche avere richieste irrinunciabili a questo punto della carriera. Chissà il mercato che sta per cominciare a mille strade e mille porte con l'augurio che quella del Catania sia invece blindata da un numero uno in grado di fare ben più che la semplice differenza.